Grazie a tutti. 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 Un appuntamento importante sarà quello del Capodanno. Abbiamo parlato anche di questo con il nuovo presidente della Fondazione Alghero, Massimo Cadeddu. Inevitabile con lui anche un passaggio sull'annullamento della tappa algherese dell'Olicolor che tanto ha fatto discutere, soprattutto sui social. Massimo Cadeddu, da quasi un mese presidente della Fondazione Alghero, ex meta, che primo mese è stato? Un mese abbastanza turbolento, come tutti abbiamo visto. È chiaro che se iniziare a fare il presidente della Fondazione nel cuore della stagione estiva, voglio dire, al di là del caldo è stata abbastanza frenetica, ma comunque è un buon inizio, diciamo, e spero di una buona esperienza. È stato un'estate turbolenta, probabilmente si riferisce anche al caso, possiamo chiamarlo così, Olicolor. Come è proseguito poi il dialogo con gli organizzatori? Ottimo dialogo, ovviamente, anche in questi giorni siamo in contatto, stavamo cercando di capire se provare a ripetere l'evento. Il tempo non ci aiuta, la volontà è di fare una cosa bella, fatta bene, quindi, insomma, si può fare, forse non si fa, ma sicuramente si rifarà bene il prossimo anno, è programmata ovviamente per tempo. Massimo Cadedu, presidente della Fondazione Alghero, con quali obiettivi? Ma intanto quello di cercare di capire come si deve fare una buona programmazione, bisogna farla, non so, per tempo, noi entro il 15 di ottobre dobbiamo pianificare tutto il 2019, quindi, insomma, bisogna fare un'attenta valutazione su tutta una richiesta di contributi, stiamo parlando ovviamente di eventi, ma soprattutto l'occhio attento e vigile proprio alla programmazione. Vendere il marchio Alghero fuori dalla Sardegna in questo momento è il nostro principale obiettivo, bisogna capire come fare, il web è un veicolo molto importante, esistono le fiere, non solo quelle del turismo, stiamo adesso partecipando al progetto FICO che è la più grande fiera enogastronomica d'Italia, Alghero, attraverso i suoi piatti tipici, può iniziare a far parlare di sé, quindi non solo per mare, insomma, ambiente, ma anche per l'enogastronomia è un veicolo importante, ecco questo. Prato di programmazione? Si sta programmando, immaginiamo, anche il Capodanno? Beh, evidentemente sì, è l'appuntamento più importante dell'anno, non siamo ancora sotto data, stiamo però iniziando a fare dei ragionamenti, abbiamo avviato i primi contatti, non c'è solamente da programmare la sera del 31, bisogna capire anche che esistono i giorni di spalla, dal 25 di dicembre al 31, quelli sono giorni di festa, bisogna cercare di animare bene la città, soprattutto in quei giorni. Ci fermiamo per una prima pausa adesso. È aperta e operativa da qualche giorno l'isola ecologica in zona Lido, in Viale Europa, all'incrocio con Via delle Balearie, quindi è possibile conferire i rifiuti correttamente differenziati negli appositi contenitori. Un nuovo punto per i conferimenti extra delle frazioni differenziate, si aggiunge alle due eco-isole video sorvegliate installate in Via De Gasperi e nell'area sterrata davanti al cimitero, compresa tra le vie Vittorio Emanuele e Mazzini. Il conferimento nelle isole ecologiche, lo ricordiamo, è possibile per tutti i cittadini dotati di tessera sanitaria. È sufficiente avvicinare la banda magnetica per avvitare il lettore e successivamente passare la mano davanti agli appositi spazi destinati ai rifiuti, a tutte le strutture estralberghiere regolarmente registrate. Sono fornite apposite schede per l'eventuale utilizzo ai turisti stranieri, non in possesso della tessera sanitaria. A proposito di queste isole ecologiche installate, quella di Via De Gasperi, risulta attualmente fuori uso. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Roberto Ferrara, ha segnalato il problema sui social network, trovando anche la spiegazione e la risposta dell'assessore Selva, che ha denunciato come l'isola ecologica sia stata devastata da persone che non hanno rispetto per le cose pubbliche, così ha scritto appunto il delegato della Giunta Comunale. Entro pochi giorni i tecnici dovrebbero sistemarla, provvedendo a sostituire le schede. Calaviola, uno dei più bei siti della costa algherese di riconosciuto pregio ambientale, è stato oggetto ieri di una giornata di pulizia dai rifiuti spiaggiati. A organizzarla Marco Colombo, naturalista, fotografo e divulgatore scientifico di fama internazionale, in collaborazione con l'amministrazione comunale, presente era proprio per l'amministrazione l'assessore all'ambiente, Raniero Selva. Un'ulteriore iniziativa per migliorare la qualità del nostro territorio, una raccolta di microplastica, di plastica, di quanto c'è qui a Calaviola, che serviva sicuramente a migliorare la qualità. Il problema vero è che abbiamo ancora spasso per tutti i nostri mari e nelle nostre spiagge della plastica, che sta creando delle problematiche non solo nazionali ma mondiali. Cerchiamo di essere più civili, cerchiamo di essere più attenti e cerchiamo di differenziare. Questo è il messaggio che viene da qui, dai volontari, che ringrazio fortemente per questa bellissima iniziativa e per tutte le iniziative che andremo a fare in futuro. Lo scorso 14 agosto nella sede della Caritas Diocesana di Alghero si è svolto un incontro fra il direttore della Caritas della Diocesi Alghero Bosa, Franco Deiana, e il presidente della ASD Valverde, Costantino Marcias, per la consegna da parte di quest'ultimo della beneficenza raccolta durante le manifestazioni del Grand Prix Corallo e di spinning. Marcias ha consegnato dei buoni spesa che i rappresentanti della Caritas potranno utilizzare per i più bisognosi. L'incontro, oltre a Franco Deiana della Caritas e Costantino Marcias della ASD Valverde, era presente Roberto Maloccu, responsabile organizzatore dell'evento sportivo di spinning. Se lo scorso anno la beneficenza era stata donata al reparto pediatria del Santissima Annunziata di Sassari, al polisoccorso di Alghero, quest'anno il presidente della Valverde, Costantino Marcias ha pensato ai più poveri, fra le tante associazioni di beneficenza. Questa volta abbiamo ritenuto opportuno donare le offerte alla Caritas. Ho scoperto una triste realtà, ha detto Marcias. Le persone che non hanno la possibilità di comprarsi da mangiare sono tante e la Caritas con i suoi volontari fa un lavoro encomiabile. Ci fermiamo adesso per un altro piccolo break. domani e domenica a Olmedo torna l'appuntamento con suoni e sapori, musiche, folklore e sapori della tradizione isolana che racchiude al proprio interno diverse manifestazioni. Olmedo produce a Sazzo se mostra del pane. Ne hanno parlato i nostri microfoni il sindaco Tony Faedda, l'assessore alla cultura Gianluca Pina. Domani e domenica a Olmedo torna suoni e sapori. Siamo in compagnia dell'assessore Gianluca Pina e del sindaco Tony Faedda. Iniziamo con l'assessore. Quale sarà il programma? Dici bene tu. Iniziamo domani con la solita manifestazione che ormai da tanti anni promuoviamo nel nostro comune. Quest'anno abbiamo arricchito di tante cose. Inizieremo con l'inaugurazione alle 18 di fronte alla Chiesa Romanica che quest'anno ci darà un bel regalo. Saranno rappresentati i panni tutta la Sardegna e poi proseguiremo con tutti gli spettacoli. Gli spettacoli parlano di gruppi folk itineranti. Nella giornata di sabato abbiamo la serata conclusiva con Piero Marras, mentre l'indomani riprenderemo con i soliti gruppi di balo di altri paesi limitrofi, cantatori locali e più la serata finale. sarà di una cantante, un artista locale, si chiama Serena Cartamantiglia, che è una ragazza in forte ascesa. Teniamo presente che è la curista di Mario Biondi. Per il resto ci aspettiamo tanta gente, abbiamo tanti stand, siamo arrivati già a più di 50 adesioni e sfioriamo i 60. Una bella manifestazione, una due giorni ricca di eventi. Sindaco, all'insegna della valorizzazione del territorio, possiamo dire così? Sì, il Bredo si colloca sempre in quella realtà del territorio, un tramite tra zone costiere e entroterra. Quindi abbiamo cultura, tradizione, ma soprattutto ospitalità per tanti nostri concittadini conterranei, ma anche uno sguardo importante ai turisti e quest'anno avremo il front office del comune con ragazzi che parlano la lingua inglese, quindi per far sì che i visitatori siano informati, ma anche coloro che conoscono meno la nostra lingua possono avere un facile accesso alla manifestazione. Una cosa che sembra di poco conto, anche il D.P. anche qui tra le mani, infatti è stato tradotto anche in inglese con tutto il programma della manifestazione. Sì, ancora una volta, la Sardegna deve puntare al turismo, alla qualità, alle tradizioni, ma deve guardare comunque al mondo. Ed è chiaro che se noi vogliamo offrire servizi di grande qualità non possiamo non pensare di comunicare in quella che è la lingua più utilizzata al mondo e quindi guardare sia le tradizioni, ma anche con un occhio al futuro. L'ASD Poseidon 1984 organizza una gara di pesca sportiva dalla barca a coppie con l'utilizzo di canna da natante o volentino a mano della durata di 4 ore. La competizione inizialmente prevista per domani, 25 agosto, è stata rinviata per maltempo domenica prossima, anzi sabato prossimo, primo settembre, dalle ore 15 alle 19. Premiazione per le prime 10 coppie classificata e tanti altri premi. Il regolamento particolare ai moduli di iscrizione si possono trovare sulla pagina Facebook dell'ASD Poseidon 1984 oppure presso i punti vendita Amo Pescare in via Pascoli 37 o Tanda Sport in via Logudoro 6A. L'ASD Poseidon 1984 promuove l'attività della pesca sportiva legata al rispetto dell'ambiente e del mare. La manifestazione vuole essere un appuntamento per riunire tutti gli appassionati di pesca dalla barca e per promuovere l'attività anche alle giovani leve che si cimenteranno e si misureranno con gli adulti. A fine gara pesature premiazione con cena di tutti i partecipanti presso il locale Il Palitto a Olmedo. E la pesca sportiva chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale che torna ovviamente domani. grazie per essere stati con noi e arrivederci.